Gli antifascisti laici dovrebbero rendersi conto di avere nella filosofia di Gentile il proprio fondamento più autentico. Gentile ha inteso dire al fascismo che cosa sarebbe dovuta essere l'essenza dell'azione fascista. Gentile è stato poco inteso, poco ascoltato dal fascismo, ma dal punto di vista teorico va detto che non è stato Gentile essere fascista, ma è stato il fascismo a tentare di essere gentiliano, perché Gentile appartiene a quell'atteggiamento della cultura contemporanea che distrugge ogni immutabile, ogni ordinamento assoluto, ogni assolutismo. Lo si vede anche nel modo in cui Gentile ha preso posizione rispetto ai patti lateranensi, cioè ostile alla versione che ne ha dato Mussolini, che prevedeva l'estensione dell'educazione religiosa a tutta la scuola media superiore. Certo, Gentile si è illuso che il fascismo potesse essere lo strumento per realizzare la libertà autentica, non la libertà borghese dell'individuo, ma la libertà così come intesa dall'idealismo. Si è illuso e non si è reso conto che le forme caduche che egli vedeva nel fascismo sono rimaste attaccate a lui e alla sua persona, così come potremmo dire restano attaccate al ramo le foglie secche. però Heidegger diceva, Heidegger che ha avuto una vicenda così simile a quella di Gentile, diceva che solo chi pensa con grandezza può errare grandemente.